In collaborazione con Glam Vision e i dentisti riuniti. Il trentino bussa alla porta veronese del marchio del Baldo, il sindaco di Brentonico, nulla di concreto, le realtà coinvolte, positivo, fonde le tradizioni ed esperienze. Uccise un bimbo di due anni, il papà e la nonna. Angelica Uther sconterà quattro anni e otto mesi, ma non andrà in carcere. Il nonno, lo Stato, è complice di quanto è successo. L'altra montagna. Qui arrivò solo la coda dell'onda assassina. Hanno deciso di lasciare i segni sulla scuola a ricordo della tragedia. Vaiont, una catastrofe fuori scala. Vuoi i denti da leone? Dentisti riuniti. Rovereto. Cless. Mezzo Lombardo. Levi Cotero. Chiamaci. Dentistiriuniti.it